Lasciatemi rullare, c'ho un fistione in mano, lasciatemi impastare lo scardo piano piano. Stare in casa, egli è un patema, da venti giorni sono in quarantena, con un fistione sempre nella mano destra, una piantina sopra la finestra. Cari amici, è un po' più via, in compagnia della mia Maria, e mi è bastato fare una chiamata, e ringrazio chi me l'ha portata. Buongiorno Italia, benvenuta Maria, c'ho gli occhi rossi, un'emma l'inconia, sotto hai il divano, c'ho anche il pahistano. Lasciatemi rullare, con un fistione in mano, lasciatemi fumare, me lo sdrumo piano piano. Lasciatemi fumare, perché altrimenti sclero, un posso stare senza, no bisogno per davvero. Ho, 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 ho.